Quando si sbagliano tre gol davanti alla porta nel finale, nel calcio spesso si viene puniti. E' successo questo al Pescara, i suoi giocatori devono recitare il mia colpa perché la partita era praticamente vinta. Lei è arrabbiato? Adesso, beh, come si fa a non essere arrabbiati? Nel senso che tu hai tre opportunità di chiuderla, bisogna chiuderla perché l'episodio può sempre succedere. E' nostra colpa, non è che possiamo andare dall'arbitro, da due rigori che magari... No, la colpa è nostra perché dovevamo chiuderla, abbiamo avuto le possibilità di farlo, non l'abbiamo fatto. E' proprio mea culpa che dobbiamo fare. A proposito di rigori, il primo è sembrato un rigorino perché c'è stato un tocco molto leggero di Balzano, Bocalon è crollato a terra. Sì, ha dato un rigore che appena ha toccato, questo è volato via. E l'arbitro, fra l'altro, è in una posizione davanti alla mia. Io non ho visto niente, come fa ad aver visto lui, non lo so. Però, lasciamo stare, l'ho detto, la colpa è nostra. Abbiamo avuto tre occasioni di chiudere la partita, non l'abbiamo fatto e abbiamo pagato il conto. Una partita un po' simile a quella di Padova. A Padova il Pescara aveva dominato per i 90 minuti, oggi ha giocato a tratti la sua squadra, però nel finale, soprattutto nel finale, solo il Pescara, così come era stato per esempio con il Verona negli ultimi minuti, con quelle occasioni mancate davanti al portiere Scaliggero, quando non si riescono a chiudere le partite, si viene puniti. È successo anche questa volta? È vero, è nostro... Noi purtroppo è successo diverse volte ultimamente queste cose qui, dobbiamo analizzare bene queste situazioni che va in vantaggio, non riesce a portare a termine la partita. Quello che è di positivo è la condizione che sta crescendo molto, perché nella parte finale della partita noi stavamo fisicamente molto bene, la squadra ha lavorato molto bene da quel punto di vista. Il futuro, come mi auguro, dovremmo andare in play-off, è un vantaggio enorme avere la squadra in condizione. A proposito di play-off, potrebbe arrivare la matematica certezza tra qualche ora oppure nell'ultima giornata? Ci sarà questa gara con la Salernitana e poi si guarderà questa seconda fase? C'è anche il caso Palermo che però potrebbe far slittare addirittura questi play-off? Il caso Palermo non lo guardo, io guardo il nostro, è un vero peccato perché potevamo aver chiuso il discorso, potevamo giocare la partita all'ultima tranquilli, invece non la giochiamo tranquilli perché bisogna cercare di vincere. Le scelte dall'inizio, soprattutto quella di Bellini, giocatore che non ha convinto totalmente, però ha avuto pochi palloni giocabili, almeno a nostro avviso. No, ha fatto la sua parte, specialmente nel primo tempo faceva salire la squadra, quello che doveva fare l'ha fatto. È chiaro che lui non ha i 90 minuti, l'ho detto, è arrivato fino al settantesimo, poi è chiaro che non ce ne aveva più e ho fatto questo cambio, però è un ragazzo che ci dà una mano, una grossa mano, molto interessante, si deve abituare ai ritmi, al calcio italiano, però io sono contento di quello che ho fatto oggi. Aveva scelto di far giocare Bellini perché forse l'aveva visto bene in settimana? Sì, ma anche perché ogni volta che è entrato faceva sempre salire la squadra, ci davano una grossa mano e ci faceva anche in fase offensiva, è sempre stato pericoloso nelle passate partite, perciò per questo ho fatto questa scelta. Grazie.